Ti devono dare il premio anche come miglior difensore questa sera Madonna ragazzi, quante difese ho fatto? No dai, contenti, contenti perché abbiamo avuto un ritmo che non credevamo Sapevamo sarebbe stata veramente difficile Però abbiamo veramente tenuto un ritmo fin da subito all'inizio dei set molto alto Siamo stati bravi in battute, anche in difesa abbiamo toccato a muro Ne avevamo studiati bene, per cui anche oggi bravi noi Sappiamo che è durissima adesso andare avanti perché inizia il novembre intenso E già giovedì giochiamo, quindi speriamo bene Non sembravate neanche una squadra stanca? Abbiamo rassettato e speravamo che diventasse breve Perché andare lunga è un altro 3-2 dopo i due scorsi Però dobbiamo prenderci l'abitudine che anche da stanchi dobbiamo provare a far risultato